grazie di cuore la michelle per essere qui un piacere e l'altra sera stavo guardando un serial su netflix che si chiama the crown quello sulla storia della monarchia inglese e c'è stata una scena che mi ha colpito molto quella dell'incoronazione di regina elisabetta che praticamente per la prima volta è stata incoronata in diretta mondiale ed è suo marito che ha voluto no questa ha avuto questa idea di potente no per rendere più pop più più popolare più vicino alle persone un'entità come la regina che aveva dentro una connotazione spirituale fortissima perché la regina a questo è una sorta di missionario di dio sul suolo inglese e mi ha colpito però anche una altra cosa durante le riprese della diretta si vede tutto tranne il momento sacro in cui viene come dire benedetta attraverso questo unguento e li staccano e fanno vedere un'altra roba e si dice no beh questo noi non possiamo vederlo perché siamo comuni mortali solo il l'arcivescovo di canterbury adesso non mi ricordo chi l'ha incoronata poteva assistere e siccome sapevo che di lì a pochi giorni sarei venuto qui insieme a lei a fare questa questa intervista questa puntata del nostro podcast ho pensato caspita in effetti la ma michelle ha ragionato in quel senso cioè sta facendo un lavoro incredibilmente interessante sui nuovi media che io per ad esempio magari sono ignorante la prima volta che vedo fatto in maniera così strutturata così pop per mettere in termine quindi per tutti no per le persone attraverso i canali che utilizzano le persone raccontando qualcosa che di solito su quei canali si vede raramente no quindi siamo tutti quanti figli dei social media sappiamo quanto possono essere deleteri ma sappiamo anche quanto possono essere importanti per la crescita delle persone come è arrivata questa scelta di diventare un po più mediatici è cominciato quando io vivevo in india ero al monastero di sera e una grande università monastica erano più di 3000 monaci lì e in quel percorso quello che mi piaceva di più era seguire gli insegnamenti e stiamo parlando del 94 95 ero ancora ragazzino è una cosa che ho sempre fatto non proprio dai primi giorni ma quasi da subito era di registrare tutte le lezioni gli insegnamenti che io ricevevo quindi chiedevo il permesso ovviamente li registravo poi tornavo a casa riascoltavo prendevo nota eccetera no io ho cominciato a registrare tutto e personalmente ho ricevuto un grande beneficio di questo e poi sono riuscito a raccogliere insegnamenti di tanti altri maestri che erano stati registrati eccetera e ho voluto condividere questo quindi la prima cosa che ho fatto è stato mettere online l'insegnamento in tibetano di tanti maestri che avevo creato un piccolo sito e ho messo su soundcloud la piattaforma più che altro dal punto di vista tecnologico più semplice che funzionava meglio per quello e avrò messo non lo so c'è qualche migliaia di ore di insegnamento in tibetano che ho messo lì dentro di questo sono più di 800 file e sono tantissime cose che sono lì in realtà oggi sono 4 mila i file che sono lì dentro però al di là di quello ho cominciato con questo poi quando io ho cominciato a insegnare a condividere con gli altri ho detto voglio dare la stessa opportunità anche agli altri certo quindi abbiamo cominciato mettendo sempre su soundcloud solo l'audio poi a un certo punto abbiamo detto ok cerchiamo di condividere anche alle persone che non possono essere qui presenti abbiamo cominciato a cercare i migliori strumenti per poter farlo con lo streaming e alla fine abbiamo trovato che lo strumento migliore da un punto di vista tecnologico di accesso tutto era youtube quindi non è nato con idea di fare un qualcosa di mediatico di entrare nel mondo digitale ma più che altro sulla base di voler condividere quello che c'è io da quando ho cominciato a condividere l'insegnamento e la filosofia buddista eccetera ho sempre fatto con questo intento non quello di insegnare ma quello di essere aperto a chi vuole ricevere qualcosa di quello che posso condividere io ho visto che ha funzionato molto bene quando abbiamo cominciato c'erano delle resistenze ecco infatti ma eccetera ma le resistenze non tanto da un punto di vista queste cose non si possono dire in pubblico qualcosa del genere perché quello che vengono condivise sono cose che comunque sia è aperte a tutti però c'era un po la cosa no ma non funziona poi le persone non verranno più di persona ci sono tante sorte di preoccupazione io ho sempre creduto ed è stata una cosa secondo me molto bella e oggi praticamente tutte le lezioni insegnamenti attività che facciamo praticamente sono tutti live su youtube e questo è un modo che possiamo arrivare a tante persone in qualunque luogo è un modo veramente per condividere non è un concetto di proselitismo noi non vogliamo con convertire nessuno a nulla però partiamo dal principio di essere con le braccia aperte per chiunque che vuole ricevere no tutto lì e scusa è domanda un po in opportuna magari qual è la frontiera oltre la quale non si può condividere online determinate informazioni legate alla vostra tradizione che poi se ci sarà il tempo ti racconterò so che può arrivare dei livelli di profondità no diciamo che i limiti non riguarda il online e non online no prima di tutto qual è il limite dell'online è il limite di un libro molto spesso è il limite di una registrazione perché quello che accade che quando noi ci comunichiamo fra di noi esistono tantissimi livelli di comunicazione nel quale secondo la neuro linguistica la parte verbale corrisponde a un circa 7 per cento quindi abbiamo tutta un'altra parte enorme che va bene c'è il tono della voce c'è sono le espressioni c'è tanto che in un video si può trasmettere però c'è tant'altro che non si può trasmettere e quando noi parliamo di trasmettere gli insegnamenti eccetera c'è una parte che non verbale che avviene nella presenza e questo non si potrà mai fare non si potrà mai sostituire un rapporto di guida spirituale con un qualcosa di digitale perché quello che il digitale può trasmettere e conoscenza sono parole suoni immagini però il contatto umano che è molto importante va molto oltre quello quindi questo è il limite che al digitale lo stesso limite che un libro può avere un'immagine eccetera però può dare tanto ci sono alcuni insegnamenti che non devono essere dati a chi non ha fatto del non ha una base di conoscenza semplicemente perché se no vai a capire una cosa per un'altra quindi non c'entra il fatto dell'online o il non online certo c'entra il fatto che ovviamente se io ti devo insegnare una cosa però tu non hai capito quelle precedenti quella cosa li la capirai in un modo sbagliato probabilmente quindi non va dato questa è l'unica cosa questa è l'unica ragione no poi c'è oggi come oggi nel mondo buddista comincia un dibattito io ho visto questo poco tempo fa ero tavola con diversi monaci la me stavano dibattendo che nel mondo tibetano adesso è cresciuto in un modo enorme il fatto online il dalai lama sta facendo un sacco di attività online in streaming io c'è un gruppo su telegram dove ogni giorno arrivano centinaia e centinaia di testi tibetani che uno può scaricare c'è una crescita di streaming e di tutto questo enorme il la domanda che c'è oggi è quando viene fatta una trasmissione o una cosiddetta iniziazione si può fare online o no e lì ci sono punti di vista diversi ok c'è chi dice si può se viene fatto in streaming dal vivo e se chi è da una parte sia dall'altra sa chi c'è quindi chi trasmette deve sapere chi c'è chi c'è dall'altra parte e c'è chi dice no deve essere fisicamente presente io sono più dal punto di vista che certe cose vanno fatte con la presenza fisica sul posto perché semplicemente la nostra presenza fisica trasmette molto di più che le parole molto spesso e questa è una cosa che online non potremo comunque farlo per il quanto che uno voglia creare di ologrammi o quel che sia ma infatti noi lo vediamo da imprenditori abbiamo una società di formazione che si chiama money surfers e abbiamo visto proprio durante la pandemia quanto più lenta e meno intensa e più problematica è diventata la nostra il nostro lavoro a causa della pandemia a causa dello smart working che è sicuramente uno strumento che adesso abbiamo imparato tutti ad utilizzare di più vabbè noi lo usavamo fin da 15 anni fa però tanto abbiamo capito quanto invece sia importante la presenza fisica banalmente la dignità dell'essere umano che deve uscire vestirsi tra curarsi interagire e secondo noi poi non so se sei d'accordo non so se ci diamo del tuo io preferisco del tuo ok poi partite via brindisi siamo amici dico c'è qualcosa che passa quando io parlo con qualcuno come dicevi tu prima che non può passare attraverso la comunicazione digitale ma perché proprio non arriva cioè le sfumature senza andare troppo nel esoterico proprio le sfumature cioè io posso dire una frase muovendomi in un determinato modo e far capire che c'è un'ironia che dall'altra parte non viene percepita oppure certe frasi le dico solo perché siamo in presenza mentre invece quando sono da remoto tendo a essere più lapidari o a fare le comunicazioni più 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 compresse più secche poi c'è una parte per esempio della comunicazione che noi non prendiamo in considerazione che è l'olfatto e comunque il campo elettromagnetico che ognuno di noi va a generare la parte della parte dell'olfatto è una delle cose più forte che esiste in realtà a livello cognitivo gli odori dicono tanto e noi abbiamo diversi tipi di odori per esempio se una persona è arrabbiata piuttosto che ha un forte desiderio secondo delle emozioni che noi abbiamo noi abbiamo anche degli ormoni che generano degli odori anche sottili che noi percepiamo con gli altri non sono solo i cani che possono odorare la paura ma certo noi abbiamo queste percezioni che di solito noi non siamo consapevoli il fatto che noi non siamo consapevoli non vuol dire che non ci sia quindi quando noi siamo nella presenza fisica noi ci comunichiamo a tantissimi livelli chiamiamoli così più primitivi però che dicono molto di più che tante parole e questa è una cosa che è molto molto importante e purtroppo io vedo che nei giorni d'oggi si crede di poter sostituire un sistema di comunicazione molto evoluto che noi abbiamo in milioni di anni con i messaggini per whatsapp per dire ed è pericoloso questo perché la comunicazione diventa molto superficiale e uno fa fatica anche a avere chiarezza con se stesso di quello che vuole trasmettere e a me personalmente questo mi preoccupa quando io vedo in giro va al di là della pandemia certo ed è una cosa che secondo me il essere insieme stare anche in silenzio insieme poter guardarsi negli occhi toccarsi è una cosa che ha un potere di comunicazione molto maggiore che qualunque parola quale noi abbiamo visto avendo la fortuna di avere questo programma abbiamo invitato tante persone diverse ma quando arrivano persone con una certa caratura spirituale non voglio dire che è come se si percepisca immediatamente appena superano quella porta lì ma quasi e rimane anche successivamente abbiamo invitato un monaco insomma e anche con contesto c'è stata la stessa cosa poi non so se ci sono delle persone che hanno più o meno sensibilità per percepirla ma secondo me tutte le persone inconsciamente hanno un'intuizione della del campo energetico degli altri noi lo percepiamo basta vedere no quando siamo vicini una persona molto arrabbiata sentiamo qualcosa no e beh io direi di sì anche se non parlano anche se non parla se c'è una persona che nella stanza ma anche nella stessa casa che vicino e la persona è molto tesa molto nervosa arrabbiata eccetera noi veniamo influenzati da quello se c'è una persona che dall'altra parte è molto gioiosa o è molto in uno stato di pace naturalmente quello influenza io mi ricordo mio maestro l'amagan cerimpo c'è lui aveva questa caratteristica che stare vicino a lui già ti portava a sentirti in pace chiunque fossi quindi le persone certe volte volevano dire tante cose arrivavano lì si sedevano vicino a lui e basta bastava quello che bello essere alla sua presenza e ci sono delle persone che hanno queste caratteristiche però fatto sta che tutti noi influenziamo uno agli altri tramite lo stato interiore in cui noi ci troviamo e questa è una cosa che è normale non è non ci vuole una grande sensibilità ci vuole magari una sorta di sensibilità per riuscire a essere più consapevole però tutti noi ci influenziamo uno agli altri in quel senso tornando a quello che dicevamo prima piccolo anedito personale per colpa sua quindi non se non ci fosse lui che mi porta sulle cattive strade enrico io sarei una persona per bene ci siamo conosciuti oramai nel lontano 2000 2006 insomma eravamo a londra faceva un freddo terribile dovevamo era gennaio dovevamo aspettare il pullman che arrivava avevamo freddo e lui mi fa ma facciamo la meditazione tummo di cosa stai parlando enrico ma certo non conosci quella che usano i monaci tibetani loro riescono attraverso un tipo particolare di meditazione a scaldare il corpo ad asciugare addirittura dei drappi bagnati che portano so che sembra un po circense questa cosa soprattutto come lo spieghiamo noi magari poi lui la spiega ma noi la spieghiamo perché la mamiscella lo sa è uno youtuber quindi sa qual è il modo di comunicare su youtube se ci mettiamo qua a fare i sermoni e e lui mi fa ovviamente non sapeva di come si faceva però abbiamo provato a concentrarci a immaginare un calore interno insomma era quello che avevo letto io in giro internet sbagliato poi però il ragazzo non sa che qua c'è uno molto curioso se tu mi dai questo indizio io impazzisco cioè fino a quando non trovo l'informazione e la cultura e la dritta di come ottenere certe cose non sono quieto e quindi ho iniziato una ricerca folle su libri che non si trovano neanche su amazon e ho trovato tra l'altro è anche qui magari dopo se ben tempo lo tiro fuori questo lama che ha fatto ha scritto un libro su questa meditazione caspita dentro ci sono anche i simboli da visualizzare tutto ea ovviamente in maniera impropria devo dire ho provato a farlo e ho avuto degli effetti non in molto forse pure troppo intensi non so se sono stato autosuggestionato da questo eccetera ma ho capito che stavo andando in un territorio che non era il mio perché poi nel frattempo poi ho riletto il libro e più volte veniva definire spiegato dal lama cioè guardare che questa roba è fatta va fatta per alla fine di un percorso dopo che si è fatta un'iniziazione dopo che il cuore pur eccetera e e quindi mi dico quanto è quanto è difficile come dire riuscire a comunicare questi 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 segreti millenari in maniera pura e in maniera corretta in maniera lineare e con un percorso un certo tipo prima cosa è importante sempre capire che tutte queste tecniche che esistono e ci sono tante sono degli strumenti e non dei fini in se stessi quindi alla base prima di tutto ci deve essere il desiderio inteso con che cosa voglio fare se non c'è chiarezza di che cosa vuoi fare con uno stesso strumento se prendo questo qua posso fare tante cose posso suonare un bel suono come posso dare in testa qualcuno come posso fare tante mille cose diverse quindi quando noi prendiamo una tecnica di in questo caso il tumo parliamo di per generare il calore interiore eccetera eccetera qual è la funzione perché lo voglio e quindi alla base ci deve essere quello nella tradizione dalla quale provengono la tradizione del buddismo tibetano alla base della motivazione c'è prima l'amore verso se stessi poi c'è l'amore verso gli altri poi c'è una visione coerente della realtà e con questo alla base poi intraprendere tutte queste altre tecniche e la base di tutto è capire da dove viene la mia sofferenza che cosa vuol dire la felicità effettivamente e quindi cosa voglio capire che la felicità non dipende da condizioni esterne ma da come io interiormente vivo il mondo adesso sto semplificando fin troppo e una volta che ho questa chiarezza queste tecniche hanno una ragione adesso senza entrare nei dettagli visto che hai citato il tumo no questa non è una tecnica che serve semplicemente per scaldarsi o fa avere esperienze chiamiamo così mistiche se vuoi semplicemente avere esperienze mistiche prendi un fungo che ne so io fai molto prima non è quello il punto no ma sono tecniche che servono per portare la persona a stati di coscienza più profondi con un livello di saggezza quindi uno dovrebbe generare uno stato interiore di amore e saggezza con questo stato di amore e saggezza portare se stesso a uno stato di coscienza più profondo per portare quello stato di amore e saggezza a un livello più profondo e non solo concettuale e quindi si utilizza il corpo tramite il processo di questo del calore interiore eccetera per portarsi a questi stati di coscienza più profondi entrare nei stati di coscienza più profondi in sé per sé non serve a nulla se tu non entri in stati di coscienza più profondi con delle qualità con le quali vuoi familiarizzarti quindi alla base ci deve essere lo sviluppo dell'amore lo sviluppo della saggezza e una volta che tu hai queste qualità che comunque la nostra mente è maliabile e quindi noi funzioniamo sulla base della familiarizzazione della ripetizione però una cosa molto semplice per capire un po meglio questo è la differenza che c'è fra capire qualcosa e avere un'esperienza noi possiamo avere un concetto e ripetere quel concetto migliaia di volte ma quando abbiamo un'esperienza diretta quello vale molto di più perciò quello che va fatto che viene poi chiamato di meditazione ma che in realtà la parola meditazione in tibetano parte dal principio di familiarizzazione che non è però familiarizzarsi col concetto ma è familiarizzarsi con l'esperienza uno deve indurre se stesso a una esperienza di amore di saggezza eccetera una volta che uno ha fatto questo si riesce a portare se stesso a stati di coscienza più profondi naturalmente va a creare una familiarizzazione che va oltre la parte concettuale no e queste tecniche servono per questo poi se uno prende alcuni aspetti di questa tecnica e utilizza per riscaldare se stessi funziona non è neanche così difficile io una volta ho fatto eravamo in un incontro in brasile faceva tanto freddo e a un certo punto tutti si lamentavano no dobbiamo a fa freddo fa freddo fa freddo ha detto o andiamo via o smettiamo di lamentarci facciamo qualcosa è un po così un po per scherzo così ho fatto fare certo punto c'era vicino a me una davanti a me da parte una ragazzina all'epoca aveva otto anni schiava vittoria era lì che lei si è messa tutta concentrata a un certo punto cominciava a sudare no guarda che poi ha funzionato per dire sono tecniche relativamente semplici però come una volta che andò dall'amagancen un signore quest'era in america e chiesi all'amagancen ho sentito che nella vostra tradizione è possibile imparare a levitare piuttosto che io voglio imparare a questo mi puoi per favore l'amagancen risposi a lui sì è possibile con tanta fatica anni 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 di pratica e una vita dedicata a questo magari riesce a levitare un metro due metri quel che sia ma oggi esiste l'ascensore esiste l'aereo ci sono tanti altri modi non non è quello questa parte un po più mistica in qualche modo come si può dire spettacolare spettacolare non è questo quello che cerchiamo anche per dire io sono sicuro che nel mondo in cui noi viviamo oggi ma anche prima una persona che manifesta questi aspetti più spettacolari ottiene più attenzione che qualcuno che manifesta le cose veramente spettacolari che un sentimento di amore sincero esatto quello che vogliamo sviluppare quello che si deve condividere nella nostra tradizione anche qualcuno che dovesse avere delle realizzazioni di questo genere assolutamente non le deve far vedere in pubblico e assolutamente non le deve condividere apertamente in questo senso perché sono degli strumenti specifici ma farebbe molte più views su youtube assolutamente sì ma se per questo chiamiamo qualcuno che fa gli effetti speciali e possiamo fare di più di tutto non è quello il punto principale è lo sviluppo di consapevolezza amore verso se stessi amore verso gli altri questa è la cosa fondamentale no poi ci sono tante tecniche sviluppate nel passato che ci sono quelli che vengono chiamate le cosiddette realizzazioni mondane che sono cose che servono per la vita quindi camminare velocemente non stancarsi in un certo modo stare a tempi lunghi senza mangiare scaldarsi eccetera abbiamo il riscaldamento centralizzato ci abbiamo il cibo a volontà quando vogliamo di buona qualità possiamo andare da un punto all'altro con trasporti facili comodi eccetera eccetera queste cose hanno una necessità minore quello che è importante mettere il tempo perché la vita passa in fretta il problema che noi abbiamo nei tempi oggi è che abbiamo troppe distrazioni di più di una volta e la vita passa in fretta e moriremo questa è una certezza il problema non è che noi moriremo ma è chi sarò io quando morirò non è neanche cosa ho fatto durante la mia vita ma chi sono diventato perciò diventa molto importante mettere la nostra energia la nostra consapevolezza in ciò che poi dopo veramente porta dei frutti quello che è veramente importante che prendere cura di noi stessi da dentro a fuori e queste cose un po così diciamo fantasiose queste cose sono cose che attraggono moltissimo aver controllo dell'energia le cose eccetera che esistono queste cose però se non vengono utilizzate come uno strumento ma diventano fine in se stesso come succede tante volte alla fine uno perde la vita in quello ma infatti quando abbiamo invitato il monaco gudalberto bormolini monaco cristiano abbiamo fatto proprio una puntata su questo almeno per quanto riguarda la prima parte no abbiamo analizzato quante routine tipiche dei monaci siano diventate super di moda adesso a partire da dieta vegetariana dormire a poco dormire in modi strani docce fredde meditazione meditazione barbe lunghe adesso voi tibetani non le usate tratto interessante che questo voi siete tutti rasati invece i monaci cristiani sono cappelloni secondo me è una questione di semplicità ecco c'è in realtà è strano perché lo dico perché lo vedo c'è una tendenza della gente normale ad avvicinarsi ad alcune pratiche tipiche della 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 vita monastica ma proprio secondo me affascinati dalla performance dalla dalla questione materiale più che esteriore egoica magari egoica più che esteriore egoica c'è nel senso ok facendo così avrò performance migliori nello sport avrò performance migliori sul lavoro sarò più produttivo sarò più ammirato sarò più ammirato sarò più magro sarò più alla pelle migliore però è come se manca sempre poi il sostrato di cui parlavi prima mi scello ci sono tante tecniche molto valide però dipende sempre perché cosa vuoi fare se tu hai bisogno di fare 100 metri da solo e ti compri il pullman puoi farlo ti porta però hai uno strumento che è un per una cosa lo utilizzi per un'altra no se tu compri il mega computer per andare in internet e guardare a netflix per tutto che qualunque altra cosa semplicissima che potresti fare con qualunque altro strumento no quindi ci sono degli strumenti potenti quello che è importante è sempre riuscire un pochettino a ritornare alla radice noi io dico spesso no o si utilizza certe volte degli strumenti spirituali per ragioni mondane non è un problema nel senso se funziona per quello che ha bisogno non crea degli effetti negativi fallo pure però è uno dei problemi che esiste oggi con la meditazione la meditazione è diventata di moda in tanti modi eccetera uno che quello che si fa è che una cosa classica dell'occidente riceviamo una cosa milenare la rigiriamo un po e diventa la nostra invenzione a certo quindi quello che succede che c'è tutta un'attitudine oggi che sembra che dagli studi tradizioni diciamo moderni scientifici della meditazione abbiamo scoperto qualcosa è diventato nostro in qualche modo quando è qualcosa che si fa da mileni sì anche il nome mindfulness mindfulness è quello che in tibetano si dice gempa e shershin che sono due parti importanti della meditazione ma più che altro quello che accade che perché devo meditare perché fa bene alla salute perché mi fa essere più rilassato perché avrò più concentrazione mi aiuterà nei miei rapporti con le altre persone avrò meno ansia eccetera eccetera che sono tutti degli effetti collaterali positivi però non è la ragione per la quale devo meditare però va benissimo è meglio meditare per avere meno ansia che prendi una medicina pasticchia che va benissimo in quel senso però andiamo a minimizzare uno strumento che in realtà è molto più potente ed è lì per qualcosa di molto più profondo e anche la meditazione stessa quello che oggi viene spesso conosciuto come meditazione che è molto valido anche è una parte non è lì non è l'intero è un po è l'abc della meditazione non è il tutto ma può servire questo tipo di imbocco se poi perché per me è successo così nel senso io volevo fare l'artista il mio regista preferito faceva meditazione e ho detto anche io così divento come lui creativo beh bravo famoso poi però passavano gli anni e mi accorgevo che cambiavo come persona e mi sono avvicinato in maniera profonda alla spiritualità ho letto solo misticismo per 12 anni mi sono interessato alla cultura orientale ai mistici occidentali come dire una volta che provi sta macchina dice aspetta ma come fa a farmi andare così veloce c'è qua io sono curioso voglio sapere ma chi è da dove arriva questo strumento che mentre medito non so come dire riesce addirittura a far rilassare talmente tanto il mio corpo che mi blocca la digestione se sono stomaco pieno di caspita io so solo ripetendo una cosa mentalmente produce dei risultati materiali e quindi mi dico voi dell'origine tibetana come vedete questa moda c'è la vedete comunque come una cosa che potrà portare solo benefici o comunque a qualcuno li porterà a qualcuno no o ci sono dei pericoli io credo che in grande linea va bene è una cosa positiva il fatto che la meditazione sia cresciuta più persone che sono interessate eccetera eccetera sia una cosa di grande beneficio in generale la meditazione uno strumento molto utile valido innanzitutto sta anche facendo vedere di più il potere della mente stessa viviamo in un'epoca dove c'è un aumento di uso di psicofarmaci e ansiolitici e cose di questo genere spaventosa e ridare un po alle persone far capire che in realtà noi possiamo prendere le redini della nostra mente nelle nostre mani e ci sono delle cose che possiamo fare importante no io ritengo che sarebbe bellissimo che così come nei tempi d'oggi si è capito l'importanza di fare esercizi fisici e si va in palestra come una cosa normale ci fosse la palestra della mente tutti i giorni va lì e fai tot di esercizi della mente perché la mente ha bisogno di esercizi e la meditazione come viene vissuta oggi è un esercizio per la mente per aiutare avere un po più di stabilità avere meno ansia più concentrazione eccetera più consapevolezza di se stessi tutto questo va benissimo però questo è un passo diciamo prima di entrare a un percorso effettivo di crescita spirituale sono due cose diverse però è una cosa molto positiva il pericolo che io vedo è quello di andare a come si può dire banalizzare tagliare raso e perdere la parte più profonda effettivamente che esiste della meditazione e dimenticare un po che questo è uno strumento fatto per sviluppare le nostre qualità più che altro e non solamente avere uno stato di più stabilità per poter affrontare le cose quotidiane mondane è qualcosa che va al di là di quello no e poi c'è un punto che qua lo dico così velocemente però quando andavo a ricevere insegnamenti in tibet da uno dei miei maestri che era la batte del monastero di tashilumpo e è una delle persone non già mi è venuto già a mancare però era una delle persone più colte preparate che ho mai conosciuto uno dei più importanti maestri in vita in tibet quando lui era lì e quando gli facevo delle domande durante degli insegnamenti che mi dava eccetera lui diceva sì questo maestro ha detto questo quell'altro maestro in quel libro ha detto quell'altro eccetera eccetera diceva ma tu cosa ne pensi e lui diceva cosa importa chi sono io per dire cosa ne penso io ogni tanto insistivo e lui ogni tanto diceva qualcosa in occidente abbiamo l'opposto leggo due libri e quindi il problema è che andiamo a mischiare troppe cose certe volte non abbiamo abbiamo un po di conoscenza ma non abbiamo una esperienza profonda non abbiamo veramente digerito quello e già cominciamo a dire fare senza avere veramente una preparazione questo è un problema che un po avviene oggi concordo invece prima ha detto che nei monasteri ci sono sempre più distrazioni nel senso che sono meno monasteri da remiti e se è come se si stessero avvicinando un po al il mondo al di fuori del monastero che strapieno le distrazioni e davide giustamente prima diceva dall'altra parte il mondo al di fuori dei monasteri si sta riempiendo anche di metodi che vengono utilizzati all'interno dei monasteri è come se questi due mondi che una volta forse erano separati si stessero un po avvicinando con la domanda le sembra così e soprattutto c'è visto che queste distrazioni che abbiamo nel mondo ci impediscono forse di progredire aumentare le nostre qualità e avvicinarsi a diventare migliori come essere umani e raggiungere stati spirituali diversi più elevati più profondi il fatto che è una mia considerazione che queste distrazioni vengano vissute anche all'interno in ambienti dove prima magari non c'erano possa aiutare a empatizzare meglio con le persone che fanno lavoro ai comuni e essere persino più di aiuto per dirgli caspita effettivamente tu sei bombardato di stimoli ovunque tutto il giorno dal cellulare al lavoro ed è difficile prendersi del tempo per se stessi per riflettere per per rallentare se questa cosa magari si vive in qualche modo minore all'interno dei monasteri magari escono fuori nuovi consigli cioè ci sono nuovi metodi nuovi consigli che la vostra tradizione può dare adatti all'uomo moderno che sarà cento volte più bombardato di stimoli rispetto a un uomo di 2000 anni fa è tutto più veloce una volta era tutto più lento mettere il telefono su non disturbare primo consiglio guarda innanzitutto noi viviamo un'epoca dove la tradizione buddista nella prima volta nella sua storia si sta sviluppando molto di più in un contesto non monastico che in un contesto monastico perché tantissimi insegnamenti metodi eccetera per secoli sono stati trasmessi unicamente in un contesto monastico e negli ultimi cent'anni anche meno è la prima volta che questo sta venendo fuori nella tradizione tibetana in particolare questa è una cosa molto chiara pazzesco e quindi oggi come oggi non per la propria pratica spirituale non è che ci sono le tecniche insegnate ai monaci e quelli non insegnate ai monaci in realtà quello che viene trasmesso diciamo in occidente eccetera in gran parte sono insegnamenti tecniche che sono stati trasmessi da secoli in un contesto monastico quello che accade è che le distrazioni che abbiamo oggi sono aumentate in un modo enorme come avete detto e questo ha creato un problema sia per chiunque se io sono stato l'ultima volta che ero in tibet al monastero di tashilumpo sono rimasto abbastanza colpito dalla quantità di telefoni e di distrazioni che ho visto nelle persone lì veramente al di là della nostra aspettativa quindi poco anche dei monaci? dei monaci dei monaci sto parlando è un monastero di 600 monaci nella città di shigatze in tibet uno dei più tradizionali che esiste sono su whatsapp? no loro li hanno wechat ok però per dire diciamo di 600 monaci almeno 300 avranno un iphone per dire se sì no li ho visti per dire adesso sto esagerando un po' i numeri o meno ma io che un po' capisco di tecnologia sono venuti per chiedermi di installare le cose sul telefono almeno una cinquantina di telefoni in quelle tre settimane che sono stato lì quello che succede è che il problema reale che magari non so il quanto noi siamo consapevoli che il livello di distrazioni che questi oggetti creano è un livello chimico è al di là del livello concettuale e chiunque che sia la persona il ragazzino che non ha mai sentito dire la parola spiritualità al monaco che vive in tibet siamo tutti successibili nello stesso modo noi abbiamo un meccanismo nel nostro corpo che quando c'è una novità chimicamente sentiamo piacere e quindi ogni volta che abbiamo una novità facilmente abbiamo quell'ormone lo scrolling delle pagine dei social una novità al secondo ma quando noi entriamo in internet oggi quando apriamo una rete sociale quando prendiamo il telefono in mano è perché vogliamo un'informazione in particolare o perché semplicemente abbiamo quella dipendenza di una distrazione di una novità la seconda che hai detto è quello e questo succede dappertutto e crea una dipendenza a livello chimico fisico e questo in realtà è molto preoccupante per tante cose a livello di meditazione diventa molto più difficile meditare oggi che una volta semplicemente perché uno dei punti fondamentali per riuscire a avere controllo della propria mente è avere meno distrazione e quello che accade è che il livello di distrazione in cui noi siamo oggi è un livello di distrazione in cui c'è una dipendenza e quindi è molto più forte dentro la persona non è normale e non è sano più che è normale che uno si svegli al mattino e ce l'ha già l'impulso di prendere un oggetto il telefono non è sano che quando due persone sono insieme a parlare e una di queste due persone si alza per andare in bagno l'altro subito prende il telefono e non ha neanche una ragione per farlo quindi queste sono cose io mi sono accorto di questo su me stesso la prima volta che mi sono accorto ero in metropolitana a Madrid stavo prendendo andando dall'aeroporto in città ero solo e ho 45 minuti circa mi sono seduto mentre lì la prima cosa che ho fatto ho preso la mano per prenderle il cellulare non avevo internet ma comunque la tendenza non mi serviva niente lì mi sono accorto ho detto ma cosa sto facendo smettila osservi la tua respirazione rifletti su qualcosa recita delle preghiere vedi il mondo pensi però perché? e ho cominciato a avere un'attitudine più di controllo su me stesso e ho visto il quanto è facile diventare dipendente io per esempio non ho mai utilizzato le reti sociali principalmente perché uno mi annoio ma due perché io mi conosco se io entro in Instagram o qualunque cosa dopo un po' passano quattro ore sono ancora lì e io non voglio io ho una mia cosa personale che a me non mi piace nulla che crei dipendenze io vedo che siamo suscettibili a dipendenze quindi questo è un problema che si sta trovando dappertutto perciò ci sono degli insegnamenti specifici per questo no nel senso che ci sono insegnamenti antichi che parlano dell'importanza di allontanarci dalle distrazioni eccetera che sono molto utili nei giorni d'oggi però non è che questo sta dando degli effetti collaterali positivi per unire più i due mondi in quel senso io direi di no più che altro sta rovinando un'altra parte del mondo ma così come rovina noi qui quindi questa è una cosa che io veramente è una cosa che ritengo a dire dobbiamo tutti stare molto attenti su questo perché lo strumento più potente che abbiamo nella nostra vita è la nostra mente è quello che ci può dare gioia stabilità e quello che ci può dare una sofferenza spaventosa quindi io di solito penso che nella vita uno ha un equilibrio di tre parti da una parte come se immaginassimo qualcosa che fosse imbilico in un'estremità ci abbiamo il corpo in un'altra estremità abbiamo le condizioni intorno a noi quindi anche materiali famiglia ambiente eccetera e in centro il pernio è la nostra mente se io ho un corpo malato quello influenza il mio stato il corpo ha un'influenza su di noi molto più grande di quella che noi di solito immaginiamo se io ho una situazione intorno a me difficile anche quello influenza il mio equilibrio famiglia, lavoro, economica eccetera tutto questo ha una forte influenza ma se io ho un corpo malato una situazione familiare un ambiente difficile ma una mente sana me la cavo ma anche se io ho un corpo sano un ambiente sano una mente malata soffro tanto e questo noi vediamo in tantissime persone ormai è una realtà che è molto diffusa e la mente va curata noi dobbiamo prendere cura è veramente lo strumento più potente che abbiamo e non possiamo far come se non fosse nulla e una cosa importante è che ogni informazione che noi riceviamo lascia un'impronta ha un effetto su di noi se avete mai sentito parlare immagino di sì delle messaggi subliminari che si utilizzava all'inizio nella televisione sì sì i frame quelli no come Kubrick sì sì che in uno dei film di Kubrick c'è una delle ultime scene che è un uomo seduto su una sedia elettrica però che non succede nulla di particolare però quella scena trasmette molta più paura di quello che è la scena effettiva lui cosa ha fatto? ha sovrapposto sull'immagine dell'uomo uno scheletro però che tu vedi ma non vedi perché sono solo su pochi frame al secondo quindi questo che cosa vuol dire? che se noi vediamo un'immagine per millesimi di secondo e quello lascia un'impronta su di noi figuriamoci quello che ci ho stampato davanti a me è ovvio che lascio un'impronta io non posso pensare che guardo un film di una cosa e non lascio un'impronta nella mia mente non mi influenza non posso immaginare che vedo delle immagini sento delle cose e non abbia un'influenza non ho fatto una ricerca scientifica per provare che i videogiochi violenti aumentano il livello di violenza nei ragazzi è ovvio meno male che qualcuno è andato dietro a vedere però è ovvio che questo succede noi incidentali abbiamo sempre bisogno della ricerca scientifica non basta l'esperienza soggettiva e va bene che ci sia però quello che io voglio dire è che tutti noi dobbiamo prendere più cura della nostra mente ecco prendersi cura della nostra mente io ti faccio finta perché io medito da 16 anni tutti i giorni due volte al giorno quindi adesso non voglio fare scusa il figo però lo dico perché per recitare la parte eh ma non c'ho tempo io già lavoro 8 ore poi devo andare in macchina per andare in ufficio e poi c'ho i bambini e poi c'ho da cucinare come si fa convincere non è una bella parola però a a motivare e a a disegnare la vita delle persone affinché sia possibile inserire una routine come questa che io trovo ugualmente importante e decisiva alla stessa altezza rispetto al cibo e al sonno cioè non posso più oramai immaginarmi senza la meditazione ma dopo 15 anni e dopo un po' di anni ma una persona che non ha mai assaggiato il cioccolato c'è un un tuo collega un lama che usava sempre questa metafora eh devi prima assaggiare il cioccolato poi quando l'assaggi dici no beh il cioccolato mi piace e quella roba lì alle persone in qualche modo la capiscono ma poi io ho tanti amici ai quali ho parlato della meditazione migliaia perché poi abbiamo un corso anche di crescita personale in cui parliamo della meditazione ma proprio amici intimi che hanno iniziato poi hanno smesso perché sono stati trascinati dalle routine non trovano tempo io dico sempre guarda che se tu vivi la meditazione come andare in palestra secondo me c'è un problema proprio di partenza nella tua vita perché la palestra non è bella cioè andare a alzare i pesi è noioso lo fai per il fine perché dopo sarai più magro sarai più muscoloso però la meditazione deve diventare qualcosa di bello anche mentre la fai c'era Osho che lo diceva anche questo cioè deve essere un momento di godimento interiore mentre lo fai e dici lo voglio fare perché mi piace sto bene e sento anche i vantaggi successivamente quando noi non facciamo qualcosa che sappiamo che ci fa bene ci possono essere due ragioni principalmente o perché non vogliamo quella è la principale o perché ci troviamo in uno stato di squilibrio una volta parlavo con un amico medico e lui mi disse quando viene un paziente da me in certi casi la prima domanda che faccio è che cosa ti piace mangiare di più di tutto e lui mi ha fatto l'esempio diciamo che dicesse l'anguria e quindi io dico la prima cosa smetti di mangiare è quello perché il nostro corpo quando è in equilibrio è attratto da ciò che mantiene l'equilibrio quando non è più in equilibrio è attratto da ciò che toglie l'equilibrio è come proprio un oggetto che non è più in equilibrio la forza spinge verso lo squilibrio nella nostra vita quando siamo in uno stato emozionale equilibrato siamo attratti dalle cose che mantengono quell'equilibrio quando siamo in uno stato squilibrato chiamiamo malato come un conflitto eccetera siamo attratti da ciò che va a aumentare il conflitto va a aumentare lo squilibrio anche in un rapporto fra due persone quando c'è armonia fra le due persone sono attratti naturalmente da fare ciò che mantiene quell'armonia quando c'è un litigio fra due persone uno è attratto in quel momento da reagire con ciò che va a pacificare il litigio o va a aumentare il conflitto ciò che va a aumentare il conflitto quindi nella nostra natura questo è perciò questa è la sola risposta che io ho trovato del perché facciamo cose che non ci fanno bene anche se noi sappiamo perché quando noi non siamo in equilibrio noi siamo attratti da ciò che aumenta quello squilibrio e tanti di noi siamo in un stato di dipendenza di distrazione siamo in un stato di una velocità e la meditazione in quanto una tecnica che mi riporta al momento presente eccetera finché non ho creato un certo livello di equilibrio è faticoso è difficile non è piacevole lo può diventare però hai bisogno di raggiungere un certo stato di equilibrio perché sia piacevole ok perciò cosa fare dinanzi a questo la forza più grande che abbiamo nella nostra vita di tutti è il desiderio nessuno di noi fa nulla che non vuole a principio ci sono tre forze o perché sento che ho un beneficio o perché vado a evitare qualcosa che mi fa male o perché moralmente ritengo che sia giusto farlo queste sono le tre cause principali c'è una quarta che è perché sono abituato a farlo e non ci penso neanche il perché l'inerzia queste sono le quattro ragioni per la quale possiamo fare qualcosa io un po' scherzando ogni tanto dico alle persone durante i segnamenti così dico la vera ragione per la quale non siamo ancora un Buddha è perché non lo vogliamo io mi chiedo quanti di noi ci svegliamo al mattino e diciamo io voglio sviluppare le mie qualità loro massimo potenziale e superare la mia rabbia invidia gelosia ignoranza egoismo questa è la mia priorità nella vita ma dove io voglio fare una bella colazione andare con calma al lavoro guadagnare questo a tenere l'attenzione di quell'altro a vedere qualcosa che mi diverte siamo su quello perciò quello che succede è noi non mettiamo energia in ciò che non vogliamo come facciamo per mettere energia in qualcosa se io dico ok meditare fa bene mediti una volta senti un beneficio a me mi è già capitato di chiedere a qualcuno ah ti tu hai mai meditato si si ah che meditazione fai ah quella che mi ha trasmesso l'amagance ah che bene e quando la faccio mi sento benissimo per tutto il giorno quindi la fai tutti i giorni ah no sono da tre mesi che non la faccio e perché perché non la vuoi quindi come faccio a desiderare qualcosa nel buddismo si dice l'aspirazione che è il desiderio virtuoso chiamiamo così nasce dalla fede nasce dal credere in qualcosa se io ho sette ho un bisogno però io sto volo sto vado a cercare l'acqua quando io credo che l'acqua esiste e che l'acqua può eliminare la mia sette caso contrario non vado a cercare l'acqua è un po' se mettiamo in termini moderni è un po' quello che fa la pubblicità io ho un prodotto voglio venderlo perché qualcuno compri quel prodotto quella persona deve investire energia nel mio prodotto deve prendere parte della sua vita e mettere per comprare quel mio prodotto però che cosa ho bisogno io ho bisogno di far la persona sognare immaginare che se avesse quel prodotto in qualche modo la sua vita migliora però devo farti credere che tu lo puoi avere devo farti credere di sentire i benefici di quella cosa perciò io a certe volte ho pensato se noi dovessimo fare una pubblicità sulla meditazione o la pubblicità sul buddismo in che modo sarebbe cosa che in realtà già esiste tradizionalmente che non viene chiamato in questi termini ovviamente abbiamo anche i testimonio che sono i maestri del lignaggio le immagini dei vari buddha sono i testimonio sono quelli che hanno fatto quella roba ha funzionato quindi provaci pure te no però se noi immaginassimo no immagina la tua vita così com'è lo corpo com'è le persone con cui vivi la situazione materiale che hai la tua vita così com'è con tutte le sfumature eccetera però cerchi di immaginare questo momento della tua vita con stabilità dove riesci a relazionarti in un modo sano e in armonia con le persone intorno a te dove non hai più ansia dove non cerchi di aggrapparci a una realtà idealizzata che poi non corrisponde con la tua esperienza dove riesci a vivere con armonia i cambiamenti e la naturale impermanenza che c'è nelle cose dove riesci a connetterti di cuore con te stesso e con gli altri che ti stanno intorno dove hai soddisfazione vogliamo questo è quello per il quale uno va a meditare però se io non vado a collegare la meditazione con qualcosa che io desidero non la farò perciò dobbiamo utilizzare questo meccanismo umano naturale del desiderio però per capire che cosa voglio anche all'interno del sentiero spirituale ma come in qualunque cosa nella vita la prima domanda è cosa voglio e tutta la prima parte degli insegnamenti buddhisti gira intorno a che cosa voglio che è quello che noi chiamiamo amare se stessi ma è avere chiarezza io effettivamente in questa vita cosa voglio e poi se io ho chiarezza di quello riesco a capire che per fare quello cosa ho bisogno ok medito magari non è piacevole però mi porta verso quello che voglio se non ho chiarezza di quello che voglio non metterò energia nel percorso anche se ti dico mediti e diventerai più ricco dipende se tu credi che meditando diventi più ricco a quel punto e quello che vuoi è diventare più ricco mediterai a questo punto però dipende cosa io voglio io credo che avere uno stato interiore di più consapevolezza e chiarezza della mente è importante nel lavoro nelle relazioni umane è importante in qualunque cosa noi andiamo a fare quindi avere questa chiarezza che è uno degli strumenti più potenti nella nostra vita è la nostra mente se non lo strumento più importante e abbiamo una cosa molto potente però le redini spesso non sono nelle nostre mani fede e desiderio perché sono le due parole chiave di questo bellissimo discorso che hai appena fatto sono interessanti messe insieme perché credo che purtroppo sia l'ultimo dei desideri delle persone occidentali quelli di avere fede o forse c'è questo desiderio di avere fede ma c'è anche per tanti la rinuncia di dire non ce la farò mai c'è un misto tra le persone che conoscono di invidia per chi ha fede dice beata te che hai fede che ci credi però c'è sempre un sottotesto del tipo tu che non sei scientifica tu che credi ai maghi tu che credi al potere della mente tu che credi all'invisibile beata te c'è quel tono un po' magari anche involontariamente altezioso snob di chi invece ha un approccio più scientifico e dice io tanto non ce la farò mai a credere che sottoterra c'è l'acqua finché non c'è o la vado a provare io che c'è o vieni con me ci andiamo insieme e me la fai vedere che c'è oppure me lo dice l'OMS che c'è la la fede è qualcosa che ci sono diversi tipi di fede no? nel budismo si parla di tre tipi c'è la fede nella quale io mi baso su qualcuno di cui mi fido quello mi ha detto ma anche una persona che è detta scientifica una persona che non è non ha fede così detta quando guardiamo una notizia o quando ci dicono qualcosa faccio un esempio qualunque in questo momento i vaccini ah il vaccino questo fa bene quello non fa bene qualunque cosa che sia ma è pura fede perché chi di noi ha fatto un percorso scientifico di ricerca che ha un'esperienza diretta su quella cosa magari qualcuno sicuro ma noi ci fidiamo di qualcosa che qualcuno ci ha detto questo è fede ma ci sono migliaia di cose ma anche se vai nell'ambito della finanza in qualunque ambito che sia ma anche nell'ambito della scienza la maggioranza di noi anche nell'ambito scientifico io sono molto favorevole alla scienza noi ci fidiamo ci hanno detto e quindi è reale ma questa è fede ed è il tipo più basico di fede la fede ideale è la fede che è basata in un'esperienza diretta o in una comprensione propria però il punto qua è capire che cosa si intende per fede fede non si intende credere in una cosa che non può essere compresa fede vuol dire credere in qualcosa io ho fede nell'acqua io posso avere fede nel denaro io posso avere fede in mille cose diverse però vuol dire io credo che quella cosa ha in tibetano c'è la definizione di fede che vuol dire credere nell'esistenza nelle caratteristiche e nella capacità di qualcosa io credo nell'esistenza dell'acqua credo che sia pura fresca eccetera e credo che può pulire e può eliminare la sete per esempio e questo è quello che si intende per fede e la cosa che è importante da capire e c'è anche questo pensatore moderno Harari certo lui per esempio penso che tu sia citato in ogni puntata ci sono vari libri là dietro comprimedi no lui per esempio ha messo con molta chiarezza come la scienza oggi è una religione ha un'attitudine abbiamo un'attitudine religiosa su tanti aspetti quindi non è che quando parliamo della fede quante cose che noi crediamo chi mai ha visto un'onda radio io no noi crediamo ci hanno detto ci sono tantissime cose che noi crediamo perché qualcuno ci ha detto l'atomo si può dividere o no che ne so io io non l'ho mai visto mai fatto però nel tuo caso perché un po' diciamo ho studiato è interessante perché il tuo percorso di avvicinamento alla fede è avvenuto attraverso una persona che è piombata in casa tua in maniera inaspettata che è il tuo guru si può dire guru? sì sì un attimo assolutamente errore e tu hai detto c'è una frase un po' forte che ho sentito da te io non è che ho seguito il buddismo io ho seguito lui quella roba lì dice cos'è non so neanche non voglio anche sapere come si chiama voglio starci vicino voglio comprenderla meglio e quindi ci possono essere anche delle dei veicoli che ci possono portare verso la fede è calzante con quello che appena detto lui ha esperito il suo maestro ha fatto una prova diretta visto che rappresentava certe qualità e ha detto questo magari non conosco niente il buddismo ma lui l'ho conosciuto quindi segue lui poi si apre un mondo noi siamo fatti così indipendentemente ma perché ci sono gli influencer perché noi abbiamo bisogno di seguire qualcuno quella persona ha detto io mi fido vado ma questo è fede perché metto quel vestito lì perché quell'altro ha messo perché in qualche modo voglio essere come lui e noi questo fa parte di noi come esseri umani non è una cosa del guru che tu segue quello lì metti la tua vita nelle sue mani è il fatto che c'è qualcuno che rappresenta delle qualità che tu vorresti avere e quindi poi c'è un aspetto di fiducia c'è un aspetto di amore c'è un qualcosa molto profondo in un rapporto fra maestro e discepolo però noi come esseri umani siamo abituati siamo fatti in qualche modo per avere dei riferimenti che partono dai nostri genitori piuttosto che chissà chi che sia il cantante che sia l'attore che sia chi sia e quante volte noi non seguiamo delle cose senza neanche capirle bene perché quello lì ha detto perché l'altro ha fatto c'è chi oggi fa di questo un mestiere perciò questo è normale e non è diverso fra quello che uno fa nella sua vita e quello che uno fa nell'ambito spirituale in questo senso alla fine dei conti io già sento la voce delle persone che dicono ma come faccio a sapere se un guru è un guru onesto autentico no per esempio non so se hai visto il documentario su Osho su Netflix io non ho un'opinione sul documentario bellissimo cioè nel senso un'opera filmica bellissima intrattenimento a go go tante cose ho scoperto che non sapevo io ho letto tutti praticamente quasi tutti i libri di Osho e lo ringrazio per quello che ha detto mi ha cambiato la vita insieme ad altri pensatori posso non condividere alcuni suoi atteggiamenti eccetera però ecco lì tante persone lo hanno visto quel documentario dove si vedono le routine a volte discutibili per qualcuno della della persone che frequentavano la 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 comune le sue routine che a volte erano bizzarre queste appunto erano i gioielli eccetera e quindi quel documentario parla proprio di quello cioè io come faccio io lo so è la domanda delle persone non si affida non si lasciano andare magari provano un'attrazione per un pensiero che magari potrebbe risolvergli nella vita però dicono ma magari fuffa magari come osho che poi alla fine c'è l'orologio di diamanti non so come dire ok tradizionalmente nella tradizione buddista si dice che prima che tu ti affidi veramente a qualcuno come il tuo guru come la tua guida spirituale devi fare 12 anni di esperienza con quella persona prima di affidarti 12 anni di esperienza con quella persona con quella persona lì tradizionalmente avviene in questo modo cosa succede qua prima di tutto c'è una domanda importante che in questo caso è che cosa è una guida spirituale che cosa è un guru non è un dio sulla terra non è una persona perfetta che mi salverà la vita è qualcuno che come qualità minima nella tradizione buddista si parla molto di quali sono le qualità che noi dobbiamo cercare in un maestro spirituale c'è tutta questa parte dice tu devi cercare un guru quali sono le qualità che devi cercare prima di tutto dipende tu che cosa vuoi se io voglio semplicemente avere un certo livello di pratica spirituale serve qualcuno che abbia certe qualità se voglio fare altre cose serve qualcuno che abbia altre qualità però fra tutte le qualità il minimo è qualcuno che abbia un po' più di qualità di me questo è il minimo in quell'ambito lì se io voglio imparare a investire in borsa vieni da noi money surface ho bisogno di qualcuno che innanzitutto abbia più esperienza di me su quello che non sia un'esperienza solo concettuale ma che abbia fatto veramente ho bisogno di qualcuno che mette in pratica ciò che insegna ho bisogno di qualcuno che sa quello che sta facendo e che abbia la capacità di trasmettere perché c'è chi sa tanto però non è capace di trasmettere nel cambio spirituale è lo stesso quindi se io voglio effettivamente sviluppare più saggezza più stabilità cambiare la mia visione di mondo per una visione più coerente stare in più in armonia con me stesso eccetera cerco qualcuno che abbia quelle qualità che riesca a trasmetterle in un modo coerente per me noi di solito diciamo che quando andiamo a cercare una guida spirituale dobbiamo cercare qualcuno che come minimo abbia più qualità di noi in quell'ambito lì deve essere una persona che abbia saggezza quindi una visione abbastanza coerente con la realtà un buon discernimento abbia una buona moralità ossia la capacità di evitare ciò che fa male coltivare ciò che fa bene abbia una buona concentrazione quindi un certo livello di controllo sulla propria mente abbia una buona conoscenza di ciò che vogliamo imparare in questo caso gli insegnamenti di Buddha nel mio contesto abbia una buona capacità di trasmetterli che io riesca a capire ciò che viene trasmesso che io riesca a collegarmi con quella persona che abbia un'attitudine di amore verso me che devo imparare che metta in pratica ciò che insegna e quindi ci sia coerenza fra ciò che insegna e il modo in cui vive queste per esempio sono alcune delle qualità che dobbiamo cercare noi non dobbiamo cercare persone con titoli non dobbiamo cercare persone che abbiano grandi riconoscimenti certe volte un maestro può essere qualcuno che non ha tanto riconoscimento però il punto importante anche qui è più siamo agli inizi di un sentiero meno maestri abbiamo meglio perché abbiamo la tendenza agli inizi di affidarci alla persona e non al sentiero è un po' la differenza per me il maestro spirituale è come un medico tu vai dal medico perché vuoi stare col medico o perché vuoi guarire di una malattia e la seconda cosa è qual è il compito del medico guarire la tua malattia o farti una diagnosi corretta e darti la cura che tu devi fare perché nessun medico ci può guarire quello che il medico può fare è fare una corretta diagnosi e darci una cura che a noi funziona che poi siamo noi che ci guariamo prendendo le medicine cambiando la dieta facendo quello che dobbiamo fare un maestro spirituale ha la stessa cosa può fare una diagnosi dicendo ok questo piuttosto che quell'altro aspetto della tua vita devi migliorare e poi qua c'è uno strumento per te che faccia la tua guarigione il problema è che molto spesso abbiamo l'attitudine di vedere il guru come qualcuno a cui io affido la mia vita a lui e lui fa tutto per me bella così sarebbe comodo però non è così perciò quello che succede è se io vado dal medico e il medico mi dà la cura giusta per me a me cosa mi importa qual è il colore delle sue mutande cosa fa a casa quando è da solo in quale partito politico lui crede o non crede la cosa importante è che lui riesca a darmi la corretta cura per la mia malattia questa è la cosa importante nell'ambito spirituale io non metto a giudicare Osho la cosa importante è che le persone a cui lui abbia trasmesso e guidato che si sono affidati a lui sono riuscite a crescere spiritualmente hanno ricevuto il beneficio che avevano e non entro nel giudizio di qual era il suo stile di vita o meno quello è un altro discorso perciò quando si va a cercare è giusto cercare è giusto vedere è giusto conoscere prima di affidarsi poi quando uno veramente ha un sentiero chiaro di quello che vuole io devo sviluppare più stabilità devo conoscere meglio me stesso possiamo chiamare mille modi diversi a questo punto io posso avere tantissimi maestri posso avere delle persone che mi insegnano delle parti del mio sentiero che li incontro due volte nella mia vita questo è importante perché le persone come hai detto tu prima innanzitutto spesso vogliono che qualcuno le faccia proprio da padre sono ancora un po' bambini da questo punto di vista cioè ok fai tu dimmi cosa devo risolvimi tu tutti i problemi e l'altra cosa che pensano spesso si pensa che basti una persona da seguire che ti risolve la vita invece mi sembra anche nella storia della vita del Buddha lui prima abbia passato varie fasi cioè non è che ha raggiunto subito l'illuminazione è andato da vari maestri prima ha fatto corregimi se sbaglio innanzitutto prima viveva nella bambagia dove non c'era la sofferenza poi ha visto che c'era la sofferenza gli ha detto ah ho già imparato qualcosa poi ha iniziato a fare i digiuni forse poi ha iniziato a martoriare il corpo e poi ha fatto varie prove quindi dobbiamo metterci anche dal presupposto che forse prima di trovare la soluzione giusta il maestro giusto o i maestri giusti dobbiamo fare anche delle prove che da una parte possono sembrare sbagliate ma in realtà anche quelle fanno parte di un'esperienza che ci porta consapevolezza per definire anche cos'è giusto per noi per sapere cos'è giusto per noi a volte bisogna passare dal cos'è sbagliato per noi niente nel senso che tutte le esperienze possono insegnarci qualcosa però la vita è breve e tutte le esperienze lasciano un segno quindi certe esperienze è meglio non farle non è per dire devo sbagliare prima di fare il giusto quello è masochismo ok quindi faccio questo alla fine dei conti succede che mi trovo con tutti gli effetti che mi rimangono di quello ok prima di smettere le droghe devo farle tutte poi cosa succede rimango lì con la testa rimbambita tutta la vita perché ho fatto delle cose che a me non mi hanno fatto bene quindi quello che succede che cos'è in questo ambito spirituale chiamiamo così io c'è una cosa che secondo me è importante dire qua quando noi parliamo di spiritualità è importante innanzitutto capire che cosa intendiamo dire per spiritualità io ho una mia definizione che magari non corrisponde con quella molto spesso diffusa se è che c'è una diffusa ma quello che magari pensano in questo senso spirituale è ciò che trascende la vita ciò che trascende il giorno la settimana il mese noi viviamo tante esperienze però c'è una parte di noi che continua ed è quello che è la parte spirituale quindi in poche parole un sentiero spirituale è un sentiero di sviluppo di amore di consapevolezza di autoconoscenza di stabilità interiore di visione di mondo come proprio paradigma nel quale noi ci troviamo di trasformazione della nostra condotta questo fa parte della spiritualità in sé io ritengo che sia una necessità per tutti in questo senso quando noi andiamo a cercare qualcuno che ci guidi spiritualmente è importante dare del tempo cercare qualcuno che abbia delle qualità che noi invece vogliamo sviluppare e di solito questo sentiero avviene in due questo rapporto diciamo avviene in due modi c'è un modo più mentale quindi conosco una persona seguo ascolto quello che dice la vedo osservo passa del tempo vedo se funziona su di me perché magari è una persona meravigliosa ma quello che insegna a me non funziona devo vedere anche questo che è un modo e poi piano piano posso affidarmi spiritualmente affidarmi spiritualmente che cosa vuol dire è come vado da un medico mi da una medicina mi fido o non mi fido di quel trattamento quindi mi dice mediti così fai quell'altro lo seguo o non lo seguo un altro modo che avviene anche è quando noi incontriamo qualcuno e senza una ragione logica tra virgolette ci innamoriamo c'è un'attrazione c'è una connessione c'è una fiducia che nasce quello è nato con me con mio maestro poi uno quando c'è questo deve dare il tempo dopo per conoscere e assicurarsi però il mio consiglio in questo è importantissimo avere qualcuno che ci guidi spiritualmente in generale perché è una cosa che nei giorni d'oggi purtroppo abbiamo perso questo è una cosa che è importante però dobbiamo darci del tempo essere aperti a tutte le tradizioni spirituali però non fare una grande zuppa di tutto perché sennò dopo viene l'indigestione infatti scusa prego prego quando sono andato a vedere il Dalai Lama qualche anno fa ha fatto tutto il suo discorso e poi alla fine fa comunque non dovete diventare buddhisti per forza cioè va bene anche la vostra religione e anzi tenetela perché cambiarla può avere o comunque cambiatela se proprio sentite l'esigenza non è così importante una o l'altra via se è una via autentica e lì mi ha fatto riflettere molto questa cosa perché anche tu prima la prima cosa che hai detto quando abbiamo parlato di Youtube hai detto ma noi non stiamo facendo proselitismo noi stiamo condividendo il nostro sapere quello che ha fatto Dalle Lama uguale e mi sono immaginato quello che poteva pensare la gente comune dicendo sì ma io come faccio a rimanere nella mia tradizione se ad esempio non stimo il clero che è una delle problematiche principali che abbiamo noi in occidente tante persone vogliono aumentare la loro intensità spirituale magari anche rimanendo nella tradizione cristiana ma diciamo il brand chiesa cattolica è un po' in calo ultimamente nonostante Papa Francesco che ultimamente guarda io tanti anni fa credo che sull'anno preciso ho una memoria temporale molto scarsa comunque avevo intorno ai 20 passa comunque un po' di anni sono passati sono avuto un mio momento di crisi vi avevo in India eccetera e l'ho risolta capendo una cosa che è stata la differenza chiara che c'è fra sentiero spirituale percorso spirituale religione e istituzione religiosa sono tre cose diverse il percorso spirituale è un percorso interiore nostro di sviluppo delle nostre qualità interiori e di superare i nostri conflitti le nostre ombre diciamo così e questo che tu metta davanti una persona che segue un percorso vero sincero un cristiano un musulmano un ebreo un buddista o qualunque altro il percorso è uno ognuno a modo suo però il percorso è quello di sviluppare le proprie qualità interne di trovare questa stabilità la gioia e la pace eccetera la religione è uno strumento che io utilizzo per quello e l'istituzione religiosa è un'organizzazione che esiste in funzione dello strumento che esiste in funzione del percorso spirituale perciò se io mi trovo bene con gli insegnamenti cristiani e io riuso la tradizione cristiana serve per me come uno strumento per la mia crescita e il mio percorso spirituale sono a posto su quello io non devo basare se quell'istrumento è valido o meno se io sono pienamente d'accordo o meno con l'istituzione che lo rappresenta perché noi siamo esseri umani fatti di attaccamento arroganza voglia di potere di mille cose errori quindi io non posso basare il giudizio di una tradizione spirituale su delle persone che la rappresentano o su l'istituzione in sé facendo un esempio opposto ogni tanto c'è qualcuno che ti dice vedi una persona arrabbiarsi ma tu sei buddista non dovresti arrabbiarti io dico per fortuna non è il mio caso perché ho altri difetti non questo ma io dico ok perché ti sei arrabbiato proprio perché sei buddista ti sei arrabbiato perché se tu non ti arrabbiassi più non avresti bisogno di essere buddista no perché se sei già un buddha non serve il buddismo questa salva no sei qua proprio perché sei nel percorso però è importante capire ti trovi bene con gli insegnamenti che ha trasmesso Gesù ossia meglio quello che è arrivato a noi perché quello che ha detto Buddha io non faccio la minima idea io so quello che mi hanno detto di quello che hanno detto di quello che hanno detto di quello che lui ha detto no però se quello che tu ricevi a te è di beneficio ti aiuta a avere più pace con te stesso ti aiuta a vivere il mondo con armonia a dare un senso alla tua vita eccetera eccetera a chi ben venga non devi basare il tuo percorso spirituale su quello che sono gli esempi di altri o sull'istituzione in sé e invece un'altra roba che è molto trendy sul buddismo adesso ultimamente lo vedo perché noi abbiamo tanto seguito nel mondo della spiritualità è questa mania di voler sapere nelle vite precedenti cosa sono stato ah no no gente paga per fare autoipnosi cose e dice no io comunque sono stato nella Francia napoleonica ero e quindi niente ero così diciamo questa cosa qui nel senso siccome nel buddismo ovviamente c'è questo caposaldo della reincarnazione ma serve veramente sapere e perché secondo te secondo me se ti serve non devi andare a pagare ti arriverà il ricordo da solo magari non lo so c'è una frase di buddha che dice questo in tibetano che dice se vuoi sapere quello che hai fatto nel passato guardi le tue condizioni nel presente se vuoi sapere ciò che succederà nel futuro guardi la tua mente nel presente in altre parole quello che tu sperimenti oggi è il risultato di ciò che c'è stato ieri ciò che tu fai oggi è la causa di ciò che accadrà domani io nel mio caso particolare sono stato riconosciuto formalmente come la reincarnazione di un maestro tibetano eccetera eccetera io da piccolo sono sempre stato molto scettico nel senso che non mi è mai piaciuto mistificare le cose io credo in ciò che o ho una esperienza diretta o capisco logicamente quello che non ricade in queste due cose metto in lista d'attesa ok e quello che succede io ho conosciuto diverse persone che hanno conosciuto la mia supposta vita passata dico supposto perché non ho una memoria mia io ho totale fiducia in chi me l'ha detto non sono mai andato a chiedere nulla a nessuno ma perché perché io sono chi sono adesso il pericolo di andare a vedere vite passate eccetera che andiamo a costruire un'identità basata su una cosa che non c'è più anche se è reale indipendentemente dal fatto che la tecnica che vado a utilizzare per vedere la vita passata sia valida o non valida io vado a trasformare la mia propria identità nel momento mi sento speciale per qualcosa che ho fatto venti vite fa ma cosa cambia la cosa importante è ciò che sei oggi e sulla base di quello che sei oggi quello che diventi domani quindi il concetto di reincarnazione non è di sapere chi ero stato quello non serve a niente secondo me poi posso essere sbagliato c'è chi parla dei traumi delle vite passate che devi risolvere eccetera eccetera non lo so io queste cose non ho conoscenza per poter parlare in questo senso dal mio punto di vista è sapere chi uno è stato nella vita precedente serve a poco più di uno ma quanti anni hai fatto di monastero e di scuola è stato 12 anni in India più altri 10 anni e non hai conoscenza di questa cosa qua quindi vuol dire che comunque non è che la tua conoscenza sia superficiale no dico si vede che anche nelle scuole tibetane questo aspetto ha una importanza forse secondaria non lo so ti dici io non ho mai visto in nessun monastero in Tibet o in India in nessuna parte tradizionalmente qualcuno parlare di ah come faccio per sapere le vite passate facciamo la meditazione per sapere le vite passate o la terapia delle vite passate o qualunque cosa di questo genere quello che esiste è una consapevolezza forte che quello che sperimento oggi è il risultato di quello che ho fatto nelle altre vite poi se noi andiamo veramente ancora più a un punto più profondo per capire un po' meglio questo se tu mi chiedi hai delle memorie delle altre vite sì e anche tu però in chi livello di memoria prima di tutto quando si muore che cosa continua di vita in vita non è la parte concettuale non è la parte grossolana ma è la cosiddetta mente molto sottile che porta con sé delle impronte di esperienze e le impronte delle emozioni e quelle noi li portiamo di vita in vita quindi noi abbiamo certe attrazioni avversione predisposizione che sono fra virgolette memorie di altre vite però difficilmente una persona avrà la memoria che si ricorda il luogo il nome e questo e quello anche se avessi serve a poco perciò questo è totalmente fuori dal percorso centrale che c'è nella tradizione buddista può esserci che uno si ricordi di qualcosa di un'altra vita sì e poi adesso cosa fai con questa informazione oggi questa è la cosa importante la cosa importante della reincarnazione non è il fatto di chi sono stato o chi sarò è il fatto che c'è continuità dopo la morte e che noi trascendiamo questo corpo e quindi noi dobbiamo prendere cura di ciò che continua questa è la cosa più importante interessante perché c'è un grosso supermercato nella spiritualità e ne vediamo uscire quotidianamente ahimè spesso questo mondo un po' new age si avvicina a un mondo che nell'universo profondo di internet dell'internet contemporaneo lambisce certi mondi cosiddetti complottistici che vogliono raccontarci che la verità non viene mai detta dai media tradizionali che c'è qualcosa che se vai a cercare è diverso e quando io nel mio instagram un giorno ho postato la foto del Dalai Lama che pigliava AstraZeneca ho ricevuto per la prima volta tanti messaggi di nostri followers non è che siamo famosissimi però qualcuno ce l'abbiamo ah che scena triste ah che che peccato io mi ricordo che invece io sono stato ad Armshala e ho dei ricordi bellissimi ho parlato con alcune persone purtroppo non col Dalai Lama non sono così importante però con qualche monaco ho parlato e loro dicevano non c'è problema noi prendiamo sia medicina tradizionale tibetana ma anche medicina scientifica il Dalai Lama anzi sono andato a fare un massaggio sonoro con queste come si chiamano campane tibetane con quello che le faceva Dalai Lama ad Armashala e quindi ci ho parlato tanto gli ho fatto domando gli ho fatto no beh Dalai Lama prende sia gli antibiotici che gli integratori di erbe non c'è problema cioè prende il meglio di tutte e due le medicine e invece secondo te da dove deriva questa esigenza dell'uomo di voler trovare del marcio e del del demoniaco da ciò che non riesce a comprendere qua secondo me ci sono diverse cose messe insieme io comunico in questa maniera confusa ti chiedo scusa che va benissimo no 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 nessun problema infatti ci chiamiamo il bazar atomico se no saremmo monaci tibetani quello che succede è questo che ovviamente l'ignoto è una cosa che fa paura spesso perché vuol dire che uno anche in qualche modo arriva a non conoscere se perde le certezze le sicurezze che ha perché che gran parte delle nostre sicurezze vengono create dal fatto di avere una visione di mondo che poi corrisponde alla nostra esperienza quindi avere una qualcosa che io non sono sicuro eccetera è una cosa poi la verità secondo me esiste fra le verità e ricordiamoci che viviamo in una realtà che è soggettiva questo è un altro discorso ma se no solo noi prendiamo le persone che sono in questa sala e io ho una mia comprensione un concetto un qualcosa e lo trasmetto a te tu lo ripeti a lei che lo ripete a lui che lo ripete a lui che lo ripete a lui che ritorna a me arriva diverso a me quando noi raccontiamo una storia da una persona a un'altra se io sto parlando di qualcuno a cui ho una particolare attrazione io vado a mettere un po' di più l'aspetto bello diminuire un po' quello brutto se invece ho una certa avversione di quella persona aumento un po' quello brutto diminuisco un po' quel bello e così gira l'informazione chiunque ci trasmette informazioni ha dietro tra virgolette la sua agenda c'hai le sue attrazioni le sue avversioni le sue cose tutti sono così quindi se tu ti chiedi di chi ti fidi dell'informazione di nessuno non perché mi stanno mentendo ma perché quello che io vedo è quello che io capisco di quello che tu cerchi di trasmettermi non è quello che effettivamente se io ero lì fisicamente avrei vissuto io in prima persona la realtà si trova fra le realtà perciò in tutti gli aspetti si creano queste come si può dire dove si cercano delle realtà assolute che non esiste delle verità assolute che non c'è né nella media tradizionale né in quell'alternativa se tu prendi una teoria di cospirazione avrà degli aspetti che magari corrispondono degli aspetti che non corrispondono e tu prendi qualcuno e così via ma la domanda che io mi faccio spesso è che cosa serve a me io posso passare è un po' la storia degli extraterrestri se qualcuno viene tu credi che ci sia vita fuori di questo pianeta io una volta ho sentito una frase di Stephen Hawking che diceva è così vasto l'universo che dire che c'è solo vita nel pianeta terra è troppo arrogante no? secondo la visione buddista dice che ovunque c'è spazio c'è vita e che esistono centinaia di migliaia di milioni di mondi quindi io dico sì a principio sì io credo che ci sia vita fuori da questo pianeta però come è fatto un extraterrestre che ne so io e non penso di passare il mio tempo che è prezioso a pensare come sarà uno se un domani viene uno un extraterrestre è piacere però non sto qua a discutere com'è come non è e di qua e di là ci sono tante discussioni che non sono altro che frutto della nostra immaginazione nel cercare di capire una cosa piuttosto che un'altra quando andiamo a parlare dei vaccini ognuno deve cercare di raccogliere le informazioni che ha cercare di capire al meglio vaccino qualunque altra cosa che tocchi la nostra vita e prendere la propria decisione sulla base della propria coscienza però le informazioni che noi riceviamo dobbiamo stare attenti da dove le prendiamo come dobbiamo utilizzare la nostra propria capacità di discernimento e una delle cose che mi preoccupano i giorni d'oggi è che per come noi ci relazioniamo con le informazioni con il mondo di internet dove la informazione è sempre disponibile quindi io ho una memoria esterna c'è un luogo dove sempre che ho bisogno di qualcosa è lì è la cassa dei due altri e io non devo assimilarla comprenderla perché tanto è sempre lì disponibile però quando noi ci troviamo dinanzi a un momento in cui dobbiamo fare una scelta o avere un nostro discernimento lo strumento che abbiamo per discernere e per scegliere di conseguenza sono le informazioni che abbiamo elaborato e digerito dentro di noi io non posso andare a fare 25 ricerche nel momento che devo scegliere o discernere e quindi noi come oggi la società d'oggi è molto molto più manipolabile e suscettibile di quella di prima perché siamo abituati a rimanere a un livello molto più superficiale e questo è il problema che c'è oggi in questo mondo di mille teorie e questo perché tutti noi sia dalla media mainstream che da qualunque teoria che venga fuori siamo molto più facilmente influenzabili manipolabili e questo è quello che accade rispondendo su quello che diceva della medicina eccetera unire questo mi fa ricordare che nell'India antica nella tradizione buddista ma andava oltre che il buddismo la tradizione spirituale antica che c'era in India circa 1500 2000 anni fa fino a più o meno 1000 anni fa succedeva che se c'era una comunità spirituale per dire io c'ho il centro buddista che sono lì viene un qualcuno di un'altra tradizione spirituale e mi richiama per un dibattito pubblico e apriamo un percorso di dibattito su degli aspetti fondamentali io credo nella reincarnazione tu dici che invece non c'è per dire una cosa qualunque chi dei due andava a contraddire se stesso quindi perdeva il dibattito doveva convertire se stesso con tutte le sue organizzazioni discepoli nella tradizione dell'altro perché ciò che valeva di più è la verità duello urca perché ciò che vale è la verità non è il nome o la tradizione o questo o quell'altro questa è una cosa che abbiamo perso spesso è la cosa che serve di più adesso noi dobbiamo seguire la verità e poi la verità secondo della nostra esperienza secondo di quello che noi andiamo a vedere era il contraddirsi però a volte la comunicazione può essere contraddittoria paradossale è normale che sia contraddittoria perché abbiamo esperienze diverse e ogni cosa che noi andiamo a vedere vediamo tramite la nostra esperienza personale che è a sua volta diversa e quindi naturalmente avremo dei punti di vista diversi sulle stesse cose questo è normale che sia così quando sono andato a Dormashala mi ricordo la sera dopo la preghiera vi mettete voi monaci uno contro l'altro e ve le dite di santa ragione per mezz'ora ma cos'è che vi dite io vedo fanno sti gesti e l'altro risponde uno seduto uno sdraiato uno in piedi sembra che litigano però poi mi hanno spiegato no guarda che stanno addirittura scambiandosi delle interpretazioni delle scritture questo si chiama quando si fa la dialettica il dibattito è il modo di studiare il modo in cui anch'io ho studiato in quel modo lì è un modo meraviglioso perché quello che avviene è che prima di tutto non c'è nessun argomento che non possa essere contraddetto anche tutto quello che impari nel studio formale tutto ciò che impari tu devi chiedere il perché il come e cercare di contraddire questo fa parte del percorso noi abbiamo la tendenza quando vediamo due persone nel dibattito chi ha vinto il dibattito non c'è un vincitore molto spesso perché il dibattito serve per capire meglio se io ti chiedo è A o è B e tu mi dici A io cerco di provarti che non è A se tu mi dici che è B io cerco di provarti che invece è A io devo riuscire a girare in tanti modi ma lì c'è tipo fammi un esempio cosa che gli sta dicendo uno gli dice ma il karma secondo me non esiste no esiste prima di tutto uno passa prima da uno a cinque anni studiando a dibattere ok cioè studiando come si dibatte come si dibatte ah caspita esiste una struttura per dibattere che la dialettica simile anche i grecchi avevano qualcosa di simile comunque esiste una struttura per dibattere nella quale tu hai un'argomentazione facciamo un esempio più facile per noi da capire che ne so uccidere è necessariamente un'azione negativa ok chiarissimo domanda uno può dire sì se tu mi dici è necessariamente un'azione negativa io vado a cercare un contro argomento eh però se arriva Hitler io Hitler lo uccido o non lo uccido il tipo la butto possiamo fare io posso chiedere ma uccidere ciò che determina un'azione è la motivazione o è l'azione oggettiva e qua apriamo gradualmente finché arrivo a ritornare indietro e questo apre la mente non è il fatto di dire se qual è la risposta giusta o quella sbagliata in tanti casi no e quello che succede è questo si rientra che ne so io si va a entrare a fare un dibattito sulla mente di amore verso le altre che è cosiddetta bodicitta prima si parte dando la definizione ok che cos'è la mente che desidera sviluppare se stesso per il beneficio degli altri è bodicitta e lì c'è la definizione che uno va a dare quindi tu cosa intendi per questa definizione ma quello stato mentale lì è bodicitta o non è bodicitta come mai è bodicitta se c'è quell'aspetto lì che non corrisponde della definizione e così si comincia a entrare la raffinatezza dei livelli è quello che manca in occidente mi vado fuori di testa è quello che manca in occidente a scuola non si studia questa cosa qua devi prendere dei libri li devi assorbire non puoi criticare io ero uno che anche loro hanno i libri dopo cinque anni hai sentito cosa ha detto però non c'è nessuna fase così nella struttura scolastica occidentale neanche più all'università che era nata per questo motivo e poi si vede nei dibattici politici dove il dibattito consiste nell'insultare l'altro non nel e adesso sembra perché sembra sono molto e adesso capisco quando si fa la domanda si batte la mano esatto quella roba bellissima bellissima fregato è una danza una danza bellissima che ha tutta una simbologia molto bella anche la mano destra rappresenta la spada della saggezza la sinistra di essere con la sofferenza causati della ignoranza quindi batte la mano taglia la ignoranza e toglie l'essere della sofferenza ah che figata c'è tutto un modo poi c'è un modo specifico termini specifici che uno impara per parlare quando fai la domanda chi risponde può solo dire sì no è o non è e puoi solamente dire qualcosa in più se viene richiesto c'è tutto un modo per chiedere un modo per rispondere per avere un filo logico che segue spiegatelo a quelli che fanno i talk show politici cioè ci devono essere delle regole di questo tipo non è che uno può dire quello che vuole cinque anni di studio che di un suo argomento ad esempio il coronavirus che tutti hanno le opinioni ma prima cinque anni di studio sulla dialettica sì sì bravo saper dibattere adesso ho capito perché vi chiamate lama cioè è la mente che diventa una lama nel senso è quello il vero significato della parola lama io non lo so qual è il vero significato lama letteralmente ha due significati due persino perché la lama infatti ha doppia taglia doppia taglia in tibetano la parola la tibetano è una lingua un po' particolare però la può essere può significare o il punto più alto o energia vitale ma può essere madre chi nutre o può essere una negazione no quindi quando tu dice la ma inteso come punto più alto e no vuol dire ciò che non c'è più alto il punto più alto e quando tu dici come energia vitale vuol dire colui o con lei che nutre la parte più essenziale della vita questo è il significato di lama che è la traduzione letteraria di guru lama vuol dire la traduzione letteraria di guru dal sanscrito quando noi studiamo le lezioni sono fatte che arriva il maestro legge un testo spiega tutto sembra chiarissimo e a un certo punto chiedi come mai questo è così se quello è così e non dà la risposta e non darà la risposta poi tocca a noi alunni andare a dibattere su quello e se solo per dare un'idea nella formazione tradizionale quello che facevamo era da 3 a 6 ore al giorno di dibattito per 5 giorni alla settimana fra pari livello fra gli evi alla stessa noi nella mia classe eravamo in 70 e si fa il dibattito però c'è un momento in cui si mischiano tutte le classi e tu puoi dibattere con chiunque di qualunque altra classe sull'argomento che clash of titans lì proprio tutti no è interessante è un bel modo per nascono delle intuizioni delle ovviamente dagli scambi comprendi veramente quello che quello che tu hai studiato con la dialettica e il dibattito non te lo dimentichi più le altre cose e poi riesci a comprendere in un modo diverso si dice che un 30% dell'educazione sono le lezioni e il resto è principalmente il dibattito e impari molto di più con quello poi la cosa bella è per esempio nella mia classe eravamo in 70 lo stesso argomento veniva insegnato da almeno 5 maestri diversi perché tu scegli qual è il tuo maestro non ci sono gli insegnanti fissi per ogni materia tu devi scegliere perché è un rapporto profondo che vai a fare con il tuo maestro quindi tu scegli e perciò alla fine sullo stesso argomento nella classe ci sono maestri diversi che insegnano diversamente sullo stesso argomento e quindi quando si va a dibattere questo anche crea una ricchezza maggiore che bello per quello anche che si dice che non c'è nel buddismo c'è una caratteristica che è diversa da tante religioni per quello che anche si chiede se è una religione o meno ok non sarebbe una religione teista perché non è né monoteista né politeista quindi già questo è molto diverso non ha proselitismo e non ha dogma queste sono delle caratteristiche particolari questa cosa che non ci sono i dogmi nel documentario di Osho si vede bene nel senso l'aspetto l'aspetto sessuale era molto intenso tant'è che il tantrismo di Osho è stato poi spesso molto frainteso per l'occidentale il tantra è sting che fa sesso per 5 ore consecutive a raggiungere l'illuminazione detta la brutto poi se uno viene sul vostro sito tra l'altro complimenti vabbè che non c'è bisogno che facciamo complimenti a voi però per la pulizia la bellezza la comprensibilità e poi non vediamo l'ora di venire ad Albignano Albagnano Albagnano sulle sponde del lago maggiore sopra sopra deve essere un posto fantastico comunque dopo ci arriviamo c'è l'aspetto leggendo il sito a un certo punto ho visto che c'era appunto un ritiro di autoguarigione tantrica che purtroppo vista la condizione attuale si farà da remoto visto che c'è tutto un sistema ecco io mi immagino uno che non sa niente di tantrismo dice chissà da fanno questi qua l'autoguarigione tantrica sono tutti nudi che si saccarezzano se toccano non è è così no non lo so perché comunque il tantrismo è anche quello innanzitutto con le stesse parole si possono dire cose diverse dipende del contesto in cui avviene una cosa è il tantra che è arrivato in occidente tramite la tradizione induista più che altro di persone occidentali che sono andate in India e hanno imparato qualcosa hanno preso una parte della tradizione induista e l'hanno utilizzata e poi conoscio eccetera nella tradizione buddista la parola tranta vuol dire tutto altro letteralmente tantra vuol dire continuum perché di solito utilizziamo il termine anche vajrayana però il tantra è una parte del buddismo che riguarda l'utilizzo non solo della coscienza della mente ma anche della parte del corpo dell'energia per trasformare la mente se stesso che adesso in poche parole però ci sono dei concetti fondamentali nel tantra nella parte del tantra del buddismo che non c'è nella parte cosiddetta del sutra gli insegnamenti dentro la tradizione del buddismo tibetani vengono divisi in due parti la parte sutra e la parte del tantra il sutra è la parte più chiamiamo così mentale ma che non è neanche il modo giusto di spiegare il modo più giusto sarebbe il sutra è il percorso della causa il tantra è il percorso in cui si porta il risultato nel sentiero in altre parole nel sutra uno va principalmente a osservare le proprie emozioni capire che cosa non va bene cercare di familiarizzarsi con una caratteristica positiva affrontare la rabbia l'invidia eccetera eccetera quindi tramite molto spesso la parte della condotta quindi prendere dei voti degli impegni coltivare ciò che fa bene abbandonare ciò che fa male eccetera nel tantra c'è una caratteristica specifica del tantra che riguarda l'utilizzo anche della parte dell'immaginazione perché quando noi immaginiamo qualcosa noi stiamo creando un'esperienza che va al di là della comprensione teorica perciò se io mi immagino un essere equilibrato in pace con amore e tutto il resto e lo vivo interiormente come qualcosa di forte me lo immagino in questo modo questo viene chiamato portare il risultato nel sentiero non sono ancora un buddha ma immagino come se fossi gradualmente sviluppo le qualità per diventarlo quindi nel tantra nel buddismo principalmente riguarda un aspetto meditativo prima di tutto dove c'è questa caratteristica di portare il risultato nel sentiero questo è quello principalmente che viene poi l'aspetto diciamo che viene utilizzato nel tantra si utilizzano tantissimo la simbologia ci sono simboli che rappresentano cose che vanno al di là della forma e fra questo ci sono simboli che vengono anche interpretati in modi sbagliati questo c'è anche tipo uno simbolo chiaro che viene fatto in questo è il simbolo anche dell'unione sessuale perché esiste una parte qua apriamo dei termini dei argomenti che sono molto più lunghi per poter spiegare in un modo chiaro però noi abbiamo la parte maschile e la parte femminile quindi c'è una parte che va al di là dell'uomo e della dona e uno degli aspetti importanti nella nostra vita è avere l'armonia fra questi due che viene rappresentato in certi casi tramite una parte di una rappresentazione dell'unione fra uomo e dona quindi rappresenta questo equilibrio c'è un altro aspetto ancora che quello che accade è che noi la trasformazione che vogliamo ottenere interiore non è a livello concettuale e neanche a livello emozionale è ancora più profondo è un livello chiamiamo così viene detto della mente molto sottile delle impronte più profonde durante la vita ci sono praticamente tre momenti principali in cui uno può naturalmente entrare in stati di coscienza più profondi che come ho detto prima non vuol dire molto se tu non entri con certe qualità quando si muore è il momento più forte in assoluto nel quale la mente passa da un livello grossolano sottile molto sottile e per quello si dice che ha la migliore opportunità di crescita spirituale la morte stessa se viene utilizzata nel modo giusto quando si dorme ogni volta che ci addormentiamo entriamo a un livello più sottile di coscienza però se io mi addormento guardando netflix è una cosa se mi addormento meditando sull'amore è un'altra ovviamente poi c'è un altro momento che è il momento dell'orgasmo in cui per un istante molto breve avviene che noi chiamiamo i venti sottili di energia si assorbono perde come si dice consapevolezza dei sensi ed entra in uno stato di coscienza più profondo che in sé per sé non vuol dire nulla perché se una persona entra in uno stato di coscienza profondo con attaccamento non fa altro che rinforzare l'attaccamento se uno entra in uno stato più profondo di coscienza con rabbia con odio con orgoglio con arroganza con quel che sia va a rinforzare quello quindi la simbologia dell'unione sessuale fa anche tra altre cose rappresenta anche il fatto della trasformazione a un livello più profondo chiarissimo anche la ritenzione del seme durante il rapporto che si dice tantrico ha proprio quella funzione cioè di cercare di rimanere il più possibile in quell'attimo che è pre-orgasmico orgasmico però qua c'è un problema molto semplice che è quello che abbiamo parlato all'inizio strumento a che cosa serve sì 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 no chiaro nella tradizione del tantra in generale ci sono la possibilità di utilizzare il corpo e i processi del corpo come uno strumento sì però c'è un prerequisito alla partenza in realtà più di uno però un prerequisito fondamentale perché uno possa utilizzare lo stato di piacere del corpo come uno strumento spirituale il primo prerequisito è non avere nessun attaccamento al piacere stesso facilissimo tra l'altro io ero e te Enrico proprio questa ce l'abbiamo no scherzo però quello che voglio dire è che gli altri prerequisiti è avere amore verso se stesso amore verso gli altri corretta visione della realtà avere un certo livello di concentrazione abbastanza sviluppato avere potere sulle proprie energie del corpo sono tante cose e nel mondo moderno cadiamo in questa trappola dove si va a pensare che sesso sia tantra in questo senso non è che è l'opposto proprio di quello che hai detto prolunga il piacere e no tu non devi cercare il piacere paradossale e quindi quando uno va a leggere nel contesto buddista oggi qualunque cosa che utilizza la parola tantrica non c'entra assolutamente nulla con orgi o qualcosa di questo genere nel caso dell'autoguarigione tantrica in alzo è una tecnica in cui uno va a identificarsi con delle proprie qualità sviluppate al loro massimo potenziale quindi con la saggezza con la stabilità con la generosità con l'umiltà con l'amore eccetera più connesso utilizzando tecniche di visualizzazione in cui si creano delle esperienze interiore la mamma michelle io ho notato una cosa in questa ora e mezza e tra poco chiudiamo quando parli di amore elenchi sempre amore verso se stessi e amore verso gli altri e lo fai sempre con un ordine preciso amore verso se stessi prima e amore verso gli altri dopo perché quando visto che conosciamo molte persone che hanno un approccio spirituale alla vita si avvicinano a varie filosofie occidentali e orientali molto spesso lo fanno per questa spinta grossa bella di amore verso gli altri e pensano proprio sì un approccio spirituale vuol dire amare immensamente gli altri e molto spesso noto proprio che questo lo fanno è molto bello ma mi sembra è una mia intuizione che quando lo osservo poi manca proprio l'amore verso se stessi quindi si vede una spinta al sacrificio senza avere magari la consapevolezza che forse prima come fai tu l'elenco cioè l'amore verso se stessi bisogna impararlo che magari è persino più difficile è vero? cioè il fatto che tu l'abbia elencati sempre uno prima e poi l'altro ha un significato o è stato un caso che io ho colto dai miei bias? ha un significato molto preciso innanzitutto io non posso amare un altro in un modo che prima non ami me stesso perché che cos'è l'amore? e qua apriamo però prima di tutto mi permetto solo di aggiungere che abbiamo un problema nelle nostre lingue quindi l'italiano piuttosto che l'inglese eccetera che uno dei sentimenti più importanti che esistono non c'è una parola per descriverlo chiara perché la stessa parola amore quando noi andiamo a vedere l'etimologia di questa parola quello che io ho visto poi c'è chi magari vede diversamente nasce dalla parola quindi ovviamente amare quindi viene dal latino che viene dalla parola sanscritta kamma quindi la parola che si usa anche nel kamma sutra kamma che viene di kamma kamare amare kamma letteralmente in sanscritto invece vuol dire desiderio passionale anche fisico perciò cosa succede? noi oggi abbiamo un sentimento fondamentale che utilizziamo la parola amore che nasce da un contesto di desiderio passionale quindi giustamente viene quando c'è una coppia che una persona dice all'altra io ti amo ma che cosa uno si intende dire io ho bisogno di te per la mia felicità che in realtà vuol dire io ti desidero ok? questo non è amore nel senso del buddismo che in realtà in sanscritto c'è la parola kamma e c'è la parola maitri maitri vuol dire la tua felicità è importante per me tanto quanto la mia quindi io ti amo quindi quando nel contesto buddista noi parliamo di amore è il desiderio alla felicità l'attrazione alla felicità io sono attratto dalla tua felicità io ti amo quindi in poche parole la tua felicità è importante per me io ti amo ok? che è diverso dal fatto io ho bisogno di te perché io sia felice ed è una cosa importante per tutti noi riuscire a distinguere le due cose perché noi possiamo avere sia desiderio che amore verso qualcuno però non è detto che nello passare del tempo si sviluppino nello stesso modo magari l'amore aumenta e il desiderio diminuisce magari in realtà avevo solo desiderio di amore e non c'è niente perché nel momento in cui il mio desiderio non è più soddisfatto invece ho avversione è importante avere questa chiarezza in generale quando io parlo di amore io intendo l'origine della parola in sanscritto maitri che si intende il desiderare la felicità dell'altro io non posso desiderare per te qualcosa che innanzitutto non ho desiderato per me stesso perciò se per me la felicità è avere tanti soldi e io ti amo cosa voglio per te? che tu abbia tanti soldi se per me la felicità vuol dire essere in silenzio senza nessuno io ti amo e dico guarda ho preso lì andiamo a fare le vacanze in baita in montagna non c'è neanche la luce che bello magari per te quello che vuoi è stare a guardare la tv a vedere la partita bevendo la birra però molto spesso i conflitti anche fra persone è perché hanno un concetto diverso di felicità però si vogliono bene grazie l'ama Michelle e allora io non so Enrico prima di entrare qua mi ha detto che Albagnano è candidato la vostro healing meditation center all'unesco patrimonio dell'unesco non esattamente in questo modo io non lo so noi siamo attaccati a un patrimonio dell'unesco che è il parco della santa trinità di Kiff che si trova proprio vicino a noi dopo questa puntata poi c'è un altro aspetto che riguarda l'unesco anche però sì dopo questa puntata sono certo che se c'è un patrimonio dell'unesco quello sei tu perché la maniera in cui racconti e non è detto però perché come ha detto lui prima bisogna sapere le cose avere le esperite e avere la vocazione di saperle spiegare cioè se è un fuoriclasse totale e infatti lo fa in maniera spettacolare ti ringraziamo per essere venuto qua e io starei ore e tutti quanti noi staremo ore ma concluderei l'impermanenza si abbatte anche contro il bazar atomico dobbiamo andare tutti concluderei se ti va la mamma michelle con una non so una preghiera un sutra un qualcosa se vuoi con piacere di buon auspicio io credo comunque nel potere della nostra mente nel senso che nel potere dell'intenzione di quello che noi vogliamo e volevo solo approfittare per dire una cosa molto brevemente noi stiamo vivendo un momento particolarmente difficile a livello sociale a livello sanitario a livello personale economico in tanti aspetti senza entrare nei dettagli del perché del come però c'è un fatto che è un momento difficile per tanti quando c'è un momento di difficoltà quello che dobbiamo fare è mettere energia in ciò che è positivo e non lasciarci trascinare da ciò che è difficile quindi è importante fra tutti noi il momento in cui dobbiamo prendere più cura uno dell'altro il momento in cui dobbiamo veramente permetterci di vedere l'altro e amare quindi questa è una cosa veramente importante per tutti noi e c'è una cosa un verso che a me mi accompagna perché io fra le varie cose sono un po' pigro e ho sempre cercato di combattere questo un verso di un maestro antico del Tibet che diceva che dice pensando di fare pensando di fare sono passati vent'anni non sono riuscito non sono riuscito sono passati vent'anni ah perché non ho fatto ah perché non ho fatto sono passati vent'anni così sono passati sessant'anni questa è la biografia di una vita vuota se c'è qualcosa che noi riteniamo che è importante per noi o per gli altri dobbiamo farlo subito cominciare dal nostro piccolo perché il grande si fa con il piccolo e tutti noi abbiamo una capacità enorme quindi la mia richiesta per tutti è se c'è qualcosa che voi vedete che credete che sia di beneficio cercate di metterlo in pratica cercate di portare alla vostra vita non è importante essere buddhisti cristiani o qualunque altra denominazione è importante vivere con armonia con coerenza con amore e questo momento in cui noi ci stiamo vivendo vediamo ancora di più l'importanza dell'amore l'importanza dell'armonia eccetera quindi io chiedo a tutti ognuno nel suo piccolo e nel suo grande di mettere energia in quello che è virtuoso in quello che è positivo per tutti noi ok grazie a voi grazie grazie l'amo obrigado a tutti grazie a tutti